L'Europa League è una competizione che conosci molto bene, l'hai anche vinta. Ti chiedo se in questo momento è la partita perfetta per ripartire e per dimenticare anche i risultati negativi di quest'ultimo periodo. Sì, credo che il prossimo gioco è sempre il perfetto gioco e credo che il nostro focus è stato su risultati e recentemente non sono abbastanza buoni, ma questa settimana abbiamo due gioco in due competizioni per dare un kickstart e sicuramente che questi prossimi mesi sia più successivi che l'ultimo mese. Quindi la nostra concentrazione sulla prossima partita, in generale sulle prossime due partite casalinghe, in due competizioni diverse per ripartire e per avere, nei mesi che restano da qui alla fine della stagione, più successo di quello che abbiamo raccolto finora. Antinelli Hi Chris, puoi spiegare le ragioni di questo buon momento? Perché il team sta stagionando in questa parte della stagione? Puoi spiegarci il motivo per il quale la Roma fatica in questo momento della stagione? It is, I think even us as players, it is very hard to explain why, obviously up until Christmas we had that consistency and then obviously for the past month it's massively dropped. But I think we're all, us as players, we're taking responsibility, we want to, we're analysing different aspects of our own game individually and collectively to make sure that we can get back to the level of performances. But no, we, we, we know the last month hasn't been good enough, but we're working hard to make sure that this is, this is a small blip and that the next few months can be, can be successful. Beh, è difficile spiegarlo anche per noi giocatori, evidentemente fino a Natale avevamo fatto molto bene, nell'ultimo mese la forma e i risultati sono, sono precipitati. Ecco, anche noi come giocatori ci assumiamo la nostra responsabilità, abbiamo analizzato i diversi aspetti del nostro gioco, sia a livello individuale che al collettivo, per poter tornare ai livelli precedenti. È chiaro che nell'ultimo mese i risultati non sono stati buoni e da qui in poi dobbiamo lavorare per far sì che questo sia stato soltanto un passaggio a vuoto. Ciao Chris, volevo chiederti, rispetto al girone d'andata sei meno pericoloso in zona goal? Volevo chiederti da che dipende, secondo te, visto che insomma il goal dei difensori nella Roma nella prima parte della stagione era importante, agli ultimi goal però per esempio il tuo di Mancini risale a novembre. Volevo chiederti da che dipende. Come come in the first part of the season you were melting in the opposite NRC area, the last goals by you and Mancini take back to novembre, it's important for this team to have also goals from the defenders, why is that? No, I think set plays is something that I think can be the difference in a lot of games and we, especially as defenders, we know that that's an opportunity where we can help our attackers and help the team get more goals. But now we're working on our set plays, I think we know that we need to, we're getting opportunities, the delivery is there and now we just have to be one of the first players to get to the ball. So now we're working hard because we want to, we want to contribute in our own area as well as, as well as the other, the other area. Sì, è vero, le palle ferme, i calci piazzati possono decidere molte, molte partite. Per noi difensori le palle ferme sono un'occasione per metterci in evidenza anche nell'area avversaria perché vogliamo essere determinanti sia nella nostra area che nell'area avversaria, è qualcosa su cui ci stiamo, ci stiamo lavorando. Buongiorno, subito dopo la partita con il Bologna il mister disse che l'unica cosa che non vorrebbe vedere nella sua squadra è la paura e che invece in campo ha visto proprio questo, ha visto paura. Allora ti chiedo, voi in questo momento siete anche un pochino condizionati, avete paura di sbagliare e se posso aggiungo, in questo momento la Roma dietro sta prendendo tantissimi gol, tu da difensore ci puoi dire come mai la Roma prende così tanti gol? After the Bologna game, the coach said that the last thing that you wanted to see in the team was fear, that the players were playing with fear, you believed that you were playing with fear, and how come right now is allowing letting so many goals as a defender? Yeah, as a defender, I think for us to concede so many goals, especially up until maybe the last four or five weeks, we conceded very few chances, very few goals, and we're obviously going through a very tough period, but I think we as players, we know that we're the only ones who can get us out of this situation, we're working hard, we're analysing bits of our game, we're watching little clips with the coaches, I think, because if each of us can improve little aspects of our game, it's going to help the collective, but it hurts every time we conceded a goal or even a chance, it's something that I pride myself on, and the recent weeks haven't been good enough collectively, but we're working hard to make sure that we get back to conceding very few chances and taking the ones that we do create. Da difensore specialmente fa sempre male prendere molti goal, soprattutto perché fino alle ultime 4 o 5 partite la nostra era una squadra solida che concedeva poche occasioni e prendeva pochi goal. È evidente che stiamo attraversando un periodo difficile, noi giocatori siamo consapevoli che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, lo stiamo facendo lavorando solo in allenamento, stiamo analizzando con lo staff tecnico degli spezzoni di partite, stiamo vedendo delle immagini, questo è molto importante per migliorare individualmente e collettivamente, però ecco, indubbiamente prendere goal, specialmente per un difensore, è qualcosa che fa male, però ecco, continueremo a lavorare per prenderne meno ed essere più efficaci noi in zona goal in attacco. Buongiorno. Si parla molto del tuo futuro, tu sei qui in prestito, a giugno scadrà il prestito e si dovrà decidere quello che sarà il resto della tua carriera. La Roma considera una priorità la tua conferma, l'allenatore pure ha detto che a Roma ti trovi bene, tu hai già deciso cosa fare nel tuo futuro oppure aspetti di vedere anche i risultati della squadra, cosa succederà a fine stagione? Ha avuto un'unica prima su due attività, gli altri, ieri, 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 ieri. Si è parlato anche della trattativa tra Palotte e Fritkin per il passaggio di proprietà come un qualcosa che ha influito su voi giocatori. È un qualcosa di reale o non ha portato alcuna distrazione allo spogliatoio? Non c'è nulla. Io so che fino a quando abbiamo detto che i risultati sono concluzati, non c'era qualcosa che si è menzionato all'interno del passaggio. Credo che i loro discussioni sono troppo fuori, i nostri spogliari sono solo concentrati sull'interno del passaggio. Non c'è nessuna discussione, non c'è nessuna parte del passaggio. No, assolutamente. Personalmente ne sapevo molto poco di queste trattative. Nello spogliatoio non se ne parla molto. Sono discorsi che riguardano quello che avviene fuori dal campo. L'attenzione di noi calciatori è rivolta esclusivamente al campo. Albiani, Innes. Anche sul piano mentale avete fatto molto bene. Qualche settimana fa il direttore Petraghi ci ha detto che voi forse vi siete sentiti appagati da quella prestazione lì. È possibile? Hai avvertito, hai provato a pagamento dopo la buona prestazione contro Lazio? Grazie. 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 Grazie a tutti.